Sono sette gli studenti che hanno appena concluso la prima annualità del corso per tecnico superiore specializzato nell'innovazione della filiera agroalimentare, controllo qualità e gestione della produzione, che hanno ricevuto le borse di studio del presidente della Fondazione ITS agroalimentare, Franco Moro. Gli iscritti meritevoli hanno infatti la possibilità di accedere a questo sostegno messo a disposizione per coprire la retta di iscrizione. Il prossimo Open Day per ottenere tutte le informazioni sui corsi rivolti a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore e vuole acquisire o perfezionare skill specializzate, la proposta è infatti aperta anche a chi è già occupato in azienda, si terrà su piattaforma digitale mercoledì 20 dicembre alle 16.30. Per partecipare www.fondazioneagroalimentareits.it Per le iscrizioni c'è tempo fino al prossimo 15 gennaio. Due i corsi, tecnico specializzato nell'innovazione della filiera agroalimentare, controllo qualità e gestione della produzione e tecnico specializzato nelle produzioni enogastronomiche sostenibili del territorio. L'incidenza delle esperienze di tirocinio, circa 900 su un totale di 2000 ore complessive, si conferma il valore aggiunto più importante della proposta formativa, che mette in reale connessione i partecipanti e il mondo produttivo.